Nei mesi passati, nonostante la pandemia, a ridosso del corridoio C5 nei pressi di Parco Leonardo, sono divampati 14 incendi. Dopo l'ultimo episodio, che si è verificato pochi giorni fa, l'esponente della CISL, Riccardo Cioffi, ha chiesto al sindaco Montino di impegnarsi affinché venga realizzata una sede dei vigili del fuoco a Fiumicino. Nel nostro comune, ha spiegato, il soccorso pubblico è garantito dalla caserma di Oste, che dispone di 13 unità per circa 400.000 abitanti. Di fatto, riteniamo che ancora prima di utilizzare risorse economiche pubbliche per dotare la protezione civile di ulteriori mezzi, come recentemente chiesto dal primo cittadino al Presidente della Regione, sarebbe il caso che la Giunta Comunale si adoperasse per l'assegnazione, anche temporanea, di locali al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In questo modo si potrebbe garantire ai residenti un servizio professionale, efficiente e tempestivo. Vorremmo da parte di Montino un impegno a collaborare nell'attivazione di questa sede, per poi renderla stabile e definitiva, ha concluso Cioffi.